I Pirati Smemorati C'era una nave di pirati che si chiamava Tonno Feroce e navigava ai mari facendo abbordaggi Spara qua, assalta di là, ruba a me, rapina a te I pirati di quella nave, agli ordini di Capitan Gigi Trinciasquali avevano accumulato un gran tesoro di dobloni, zecchini, fiorini, talleri, corone, marenghi, luigi d'oro e altre preziosissime monete Quando ne ebbero tante che la nave quasi affondava, il Capitano disse Bella ciurma, ascoltate, noi dobbiamo mettere al riparo il nostro tesoro troviamo un'isola e sotterriamolo per bene Bravo Gigi, giusto Trinciasquali Bella idea Capitano gridarono i pirati e trovata in mezzo al mare un'isola di terra molle, vi seppellirono il tesoro poi tornarono in giro per onde e orizzonti a sparare e a bordare, a salire e rapinare ma le cose cominciarono ad andar male perché le navi si erano fatte veloci mentre la vecchia tonno feroce era una nave antica quelle scappavano e i pirati cominciavano a sentire mal di schiena e reumatismi insomma la pirateria non rendeva come una volta dopo tre anni di affari magri e stenti disse Gigi Trinciasquali Bella ciurma, sapete cosa faremo torneremo sull'isola dove abbiamo sepolto il tesoro lo tireremo fuori, lo divideremo fra noi e vivremo da gran signori nei porti di tutto il mondo Bravo Gigi, ben detto capitano, giusto Trinciasquali gridarono i pirati e la nave voltò la prua verso l'isola del tesoro ma dov'era l'isola del tesoro? il guaio è che nessuno lo ricordava bene perché il mare è pieno di isole, isolotti, scogli, arcipelaghi e così via i pirati della tonno feroce ad ogni isola gridavano E' quella! sbarcavano, scavavano, ma niente tesoro e scava su un'isola, scava su due, scava su dieci avevano i calli alle mani, erano magri e affamati un giorno ecco un'isola verde in mezzo al mare E' quella forse? dissero i pirati, ma senza troppa fiducia sbarcarono, inciampando e cadendo e cominciarono a scavare e non trovarono il tesoro nemmeno lì però trovarono dei tuberi grossi tondi, dalla pelle bruna erano così belli e strani che li fecero cuocere e li assaggiarono e li trovarono così buoni che li cucinarono in molti modi fritti, cotti, arrostiti col prezzemolo, a pezzetti, a bastoncini schiacciati con olio e burro, con salvia con la salsa di pomodoro in tutti i modi erano buonissimi saporiti e succosi morbidi e deliziosi e così i pirati dimenticarono il tesoro e decisero di restare su quell'isola a coltivare patate il capitano cambiò nome si fece chiamare Gigi Zappatata e il tesoro di monete dov'è? se lo trovi è tutto per te